Eccoci qui come state ben ritrovati ragazzi, un saluto a tutti, una buona giornata, un buon lunedì anche qui sul mio canale personal Andrea Longoni Calci al quale vi invito a iscrivervi numerosissimi da questa parte. Attenzione perché insomma Dechamp ha parlato di Teo Hernandez e non sono dichiarazioni esattamente rassicuranti. Nel dettaglio ha giocato la prima partita non essendo al 100%, non vado a precisare il problema che ha ma l'ha giocata, non è al meglio della sua condizione e oggi l'ho lasciato tranquillo perché era meglio così ieri sera. Però Teo è un ottimo giocatore anche se quest'anno non ha lo stesso livello degli anni passati, gioca tanto e può capitare. E poi più nel dettaglio tutti i giocatori in un certo momento possono avere un periodo un po' più complicato. Io ci parlo tanto e spesso passo tempo con tutti i giocatori, anche Teo che ha tanti anni con la nazionale, l'importante è capire. C'è sempre stata la stanchezza fisica ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica. Quindi parla di un giocatore che non tanto dal punto di vista atletico ma più che altro dal punto di vista psicologico è in difficoltà. Questi giocatori prima del raduno hanno avuto settimane con tre partite, in alcuni momenti tutti hanno un periodo un po' meno bello e in questi momenti sono il primo a sostenere e a mantenere la fiducia. Quindi descrive un Teo, intanto non spiega il problema che ha, ma parla di stanchezza psicologica. Sinceramente, ascoltandolo poi, non lo faccio ascoltare perché la pillola non è mia, il contributo non è mio, è un po' particolare. Sì, poi l'abbiamo intuito chi più chi meno che lui in questo momento non è contento al Milan. Però se il CT della sua nazionale dice apertamente che dal punto di vista psicologico è in difficoltà, è chiaro che poi il sospetto è che sia molto più complicato dal punto di vista psicologico di quello che possiamo pensare noi. Di fatto, lui ha fatto la prima partita e la seconda no, sembra un giocatore che si è intristito, che a livello motivazionale ha perso tanto. E' il Milan la radice, cioè alla radice c'è il Milan, la colpa è il Milan, il contesto Milan, che non sia felice al Milan mi sembra evidente. Poi non mi risultano problemi personali, anzi, adesso aspetto un'ulteriore nascita in famiglia. Però se è così ragazzi e non ne esce è un problema per tutti, soprattutto per il Milan ovviamente. Ditemi che ne pensate, frase che mi ha molto colpito. Commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti. Commentate, grazie. 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 Grazie.